E' stata rinviata al prossimo 3 ottobre 2023 alle ore 12 presso il Tribunale di Vasto la prima udienza del processo sull'incidente che ha la Sabino Esplodenti provocò la morte di tre operai il 21 dicembre 2020. La causa del rinvio è quella del legittimo impedimento certificato da un imputato per ragioni di salute legate ad un malore avuto nella giornata di ieri. Telegrafico è stato il commento dell'avvocato Arnaldo Tascione che difende la Sabino Esplodenti sul nuovo incidente che si è verificato nella giornata di ieri a Casalbordino. Non possiamo commentare l'accaduto che è drammatico sia per l'azienda sia per noi. La società ha affidato a un comunicato quello che voleva dire. La società ha riaperto da poco e quindi erano state adottate misure antinfortunistiche severissime perché dettate da tutti gli enti preposti, l'Arta, la Prefettura, il Comune, la Regione, il Ministero. Io per rispetto a quello che è accaduto e quindi alle vittime e per rispetto anche al lavoro che stanno facendo gli inquirenti non posso aggiungere altro. In contemporanea le vicende giudiziarie, questa mattina sindacati e dipendenti dell'azienda si sono ritrovati a poca distanza dal luogo della tragedia. Il mio più profondo cordoglio va ai parenti delle vittime, ai familiari delle vittime, agli amici e ai colleghi. Purtroppo è una notizia che non avremmo mai voluto sentire. Dopo tre anni si ripresenta questo drammatico momento. Questa è un'azienda nello specifico che fa demilitarizzazione, non fa fuochi d'artificio, non fa bombe. Le professionalità di questi lavoratori sono altissime acquisite in diversi decenni. Adesso c'è preoccupazione per i lavoratori, si può correre il rischio come l'altra volta che restino senza ammortizzatori sociali? Peggio, immagino purtroppo peggio dell'altra volta. L'altra volta abbiamo avuto diversi tipi di problemi di autorizzazione della cassa integrazione straordinaria. Li abbiamo risolti, immaginiamo di ripercorrere nuovamente quei momenti bruttissimi che al di là del dramma delle tre vittime rimane la gestione delle persone, la gestione delle altre 70 persone a livello di retribuzione e di salari. Questa è un'azienda sotto direttiva Seveso. La direttiva Seveso tra l'altro dichiara un alto rischio di alcune aziende. La cosa che però rigetto con forza il mittente, che ho sentito, diverse dichiarazioni, dove i lavoratori sono consapevoli del rischio al quale vanno incontro. Niente di più lontano da quello che è il mio pensiero. Non esiste nessun tipo di rischio che prevede la morte sul lavoro. Io penso che questi sono dei momenti di riflessione e che dobbiamo rispettare le persone che ci hanno rimesso la vita. Poi faremo tutte quante le discussioni, vedremo che è successo, ma in questo momento io preferisco stare in silenzio e rispettare purtroppo queste tre persone che sono venute a mancare. Intanto nella serata di ieri sono stati recuperati i corpi dei tre operai morti, ovvero Giulio Romano, 56enne di Casalbordino, Ferdinando Dinella, 62enne di Lanciano e Gianluca De Santis, 44enne di Palata. Questi ultimi sono stati trasferiti presso l'obitorio dell'ospedale di Chieti e sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura di Vasto per questo nuovo incidente ha aperto un fascicolo in cui vengono ipotizzati i reati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo.